Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Una squadra che ha tre attaccanti di spessore, Claudio Costanzo che in questa categoria comunque fa la differenza, quindi onore veramente ai miei ragazzi. Mi sarebbe notato che in questo 2015 la nuova gioiese si sta veramente comportando bene, l'obiettivo salvezza sembra sempre più alla portata vostra. Ce la mettiamo tutta, cerchiamo di ottenere il massimo da ogni partita, cerchiamo di giocarcela, c'è quando va bene, quando purtroppo le cose non riescono. Noi nel primo tempo abbiamo avuto tre palle importanti sul 1-0 per l'avversario, non siamo riusciti a metterla dentro, poi i ragazzi sono stati bravi e è venuta fuori una grande prova.